Presidente, la Puglia sta vivendo una situazione come il resto del paese molto difficile. Forse l'economia che riescono a generare le cooperative possono essere una via di sviluppo da non sottovalutare in questo momento? Sì, diciamo che la cooperativa è uno strumento, è uno strumento accessibile, è uno strumento che può essere un propellente per una regione che si sta muovendo. Perché poi, diciamo anche un'altra cosa, per fortuna le nuove generazioni qualcosa stanno facendo, si stanno muovendo, stanno approfittando anche degli strumenti che la regione ha messo a disposizione, l'Unione Europea sta mettendo a disposizione. Quindi la cooperativa in quanto strumento accessibile può essere sicuramente una delle risposte per un'economia che ha bisogno del fare. Anche perché può essere una valvola di sfogo per quelli che non riescono a trovare occupazione per altre vie, per le vie tradizionali, diventa un voler rischiare improprio e credere nelle proprie capacità. Sì, diciamo adesso le cooperative non sono la panacea, altrimenti ne avremmo già costituita tante. Mettiamola così, che chi si mette in cooperativa spesso ha le risposte ai bisogni che fa emergere. Le cooperative stanno facendo la loro parte, hanno fatto quello che dovevano, hanno dato le risposte, hanno cercato di mantenere il livello del lavoro così come era e soprattutto il numero dei lavoratori nelle proprie cooperative ma anche all'esterno. Adesso io vorrei, questo è un sogno, che questa regione guardasse con molta attenzione alle cooperative e allo strumento cooperativo.